Festa per i piccoli rugbysti under 6, 8 e 10 dell'Alessandria Rugby, che dovevano difendere le ferrovieri nel raggruppamento Fir Piemonte, ospitato sul proprio campo. Queste le squadre partecipanti, Cuneo Pedona Rugby, Fossano Rugby, Cus Piemonte Orientale, Acqui Rugby e Chieri Rugby. L'appuntamento è stato un punto di ritrovo per tutti i sostenitori dell'Avis, la sezione Alessandrina dei Donatori di Sangue, che rappresenta il centro sportivo con un'auto ematica per un pubblico prelievo. Il pensiero di Eugenio Baroni, neopresidente dell'Alessandria Rugby. Un segno importante di trasmettere ai bambini il significato della donazione. La donazione è importante e il rugby è uno sport sociale in cui dà significato, aiuto e sostegno a tutte le persone, non solo in campo ma anche fuori. E veniamo al risoconto della giornata. Esodio casalingo per i più piccolini di casa Alessandria Rugby dell'Under 6, allenati dal trio Bernica, Poniti e del Percio, coadiuvati dalla professoressa Fagnoni nella parte di motricità. Ben sei piccolissimi di 4-5 anni erano presenti all'ottave contro i parietà di Chieri e Cuneo sul campo dei ferrovieri, in una mattinata che li ha visti coinvolti in un gioco reale, giochi di motricità. Un grande risultato per la società portare i più piccolini a poter già calcare un vero campo da rugby, come i grandi, e per le famiglie assaporare il forte spirito collaborativo che si respira sul campo. Buon impegno anche per i piccoli grigionieri dell'Under 8, che portano a casa una vittoria su 4 match disputati. Di volta in volta i piccoli atleti hanno dimostrato quanto sia divertente e competitivo alla loro partecipazione ai reoccupamenti FIR Piemonte e grazie al lavoro costante dei tecnici, i terribili Under 8 stanno iniziando a prendere sempre più confidenza col contatto e con il gioco in generale, per la soddisfazione dei coach tecnici e di Annalisa Fagnoni, che si occupa della motricità. I ragazzi di Reghini, Baroni e Martelli per l'Under 10 hanno dimostrato i propri coach di aver appreso al meglio tutte le idee lavorate in settimana, tra cui la presa di posizione, l'occupazione dello spazio e il sostegno. Mette di pregio sia alla mano che con il lavoro di mischia hanno fatto sì che tutte le partite giocate contro Cuneo, Cuspo Acqui e Fossano e Chieri sorridessero a loro quel risultato. L'occupamento ottimo ha detto a dei coach che sono contenti per i nuovi inserimenti che hanno ben ingranato e si sono resi partecipi di interessanti azioni. Al di là dell'erogruppamento, tutto perfetto per i ragazzi di Zucconi, Luici e Rapetti, dell'Under 12, che a Chieri si sono imposti con facilità sui padroni di casa, al volpiano rugby e rivoli rugby. Grande soddisfazione per i coach che hanno potuto far giocare a pieno regime anche tutti i nuovi iscritti. Bottino vuoto invece nel primo impegno casalingo dei ragazzi di Taschina Novese dell'Under 14 contro i più organizzati atleti di San Mauro Torinese, i grigi hanno però dato forti segnali ai due coach che continuano a lavorare con ragazzi nuovi per la categoria, ma che grazie ad un impegno costante stanno man mano aggiungendo l'amalgama giusta.